Salve a tutti signori, eccoci qui per una nuova notizia perché era conosciuta per aver interpretato la moglie di Alberto Sordi, solo che era anche la zia di uno dei nostri artisti più talentuosi, più amati, ovvero Pino Insegno. Rossana Di Lorenzo, parleremo di lei, che si è spenta nella sua abitazione alla Garbatella 84 anni, portando con sé ovviamente di conseguenza una parte di quel cinema all'italiana di cui si sente una tremenda nostalgia. Ha recitato per i più grandi, praticamente oltre al già citato Alberto Sordi, è stata diretta da Ettore Scola, da Vittorio De Sica e nei suoi ultimi anni anche da Carlo Vanzina. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato proprio il suo nipote, Pino Insegno, ad ADN Cronos. L'attrice, nota per aver ricoperto il ruolo della moglie di Sordi in uno degli episodi di Il Comune Senso del Pudore, era anche la sorella di Maurizio Arena. Tanti sono stati i ruoli ricoperti nel mondo del cinema, tra l'altro molti dei quali proprio al fianco di Albertone. E non solo, ha inaugurato il fortunato ciclo del film di Natale. La sua carriera è sicuramente legata a doppio filo, al nome del grandissimo attore romano, e ha infatti recitato nell'episodio La Camera, nel film Le Coppie, interpretazione che le era valsa addirittura la candidatura come miglior attrice non protagonista ai nastri d'argento del 1971. E poi, né Il Comune Senso del Pudore, diretto proprio da Alberto Sordi. Indimenticabile il suo ruolo in vacanze di Natale di Carlo Vanzina, nel quale ha presentato il volto di Erminia, cioè la moglie di Mario Brega. Eh sì, ed è proprio da qui che è partito il lunghissimo filone dei cinepanettoni natalizi, al centro della proposta cinematografica anni Ottanta e anni Novanta. Per Carlo Vanzina ha recitato anche in altre pellicole di successo, e in mezzo a queste si conta anche amarsi un po' del 1984, poi Monte Carlo Gran Casinò del 1987 e nel film Cult SPQR 2001, due anni fa, in cui ha interpretato una travolgente e simpaticissima rosa. I suoi ruoli che ha interpretato sono stati ricorrenti. Aveva infatti recitato in diverse commedie, come ad esempio il presidente del Borgo Grosso Football Club. Permettete signora che ami vostra figlia? Cuori nella tormenta, l'assassino è quello con le scarpe gialle e letti selvaggi. In generale la sua incredibile capacità di riuscire a calarsi nei personaggi la rendeva sicuramente perfetta anche per i ruoli drammatici, come quello che le era stato assegnato in L'eredità Ferramonti e in Ballando Ballando di Ettore Scola, per il quale poi è stata anche candidata ai David Di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 1983-1984. Ha recitato inoltre per Vittorio De Sica nel 1972 in Senza famiglia, nulla tenenti cercano affetto. E poi come ha passato gli ultimi anni? Lontana dal grande schermo ormai da un po' di tempo, il suo ultimo ruolo è stato quello dell'assassino e quello con le scarpe gialle di Filippo Ottone del 1995. Non sono state rese note le cause della scomparsa. Su nipote Pino Insegno, figlio della sorella romana, si è infatti limitato a diffondere la notizia della sua scomparsa così in maniera generica, che ci ha però immediatamente riportato alla mente i suoi ruoli più celebri. E questo è tutto per questa notizia, vi ringrazio per l'ascolto e ovviamente ci sentiremo alla prossima.